L'essere ottimisti non è solo un toccasana per l'umore e per lo stato d'animo, ma può fare la differenza per il tuo benessere mentale. Studi inerenti all'argomento hanno dimostrato che può crescere la felicità, che può portare a gestire meglio lo stress e persino a migliorare lo stato di salute generale. Nel 1990 uno studio innovativo ha rivelato che l'ottimismo può essere coltivato con pratiche di psicologia positiva. Quindi, perché non iniziare oggi stesso la giornata con ottimismo?